Gossip News Gossip News, doccia fredda per Stefano De Martino, cosa è successo?. Gossip News ultime notizie Stefano De Martino. Gossip il ballerino Stefano De Martino riesce sempre a soddisfare la fantasia delle sue fan che non vedono l'ora di rivederlo nella nuova edizione del programma di Amici di Maria De Filippi. . L'ex quasi marito di Belen ha voltato pagina, e sembra infatti aver ritrovato anche lui la serenità accanto a un'altra donna, Gilda Ambrosio. . De Martino sempre molto attivo su social ha pubblicato una foto, intento a farsi una doccia e a spazzolarsi i denti. . La foto ritrae De Martino solo fino alla vita e non si spinge oltre. . Il ballerino sembrava intenzionato a pulire il vetro della doccia, da come si evince dal movimento della sua mano sinistra. . Stefano De Martino doccia fredda per il ballerino di Amici. . Gossip Stefano De Martino aggiunge la didascalia Buongiorno sotto la sua foto, questo è il suo modo originale per augurare un buon risveglio alle sue fan. . Le sue ammiratrici infatti hanno preso d'assalto lo scatto fotografico e diversi sono stati i commenti. . . Quando ti svegli con la luna storta ma poi guardi le foto di Stefano e ti torna il buon umore. . Ed ancora Stefano De Martino regala gioie, da infarto, come rallegrare un sabato mattina lavorativo, molte fan rispondo al buongiorno con tanti di baci e cuori. . . Gossip News, Stefano De Martino giallo sotto la doccia. . Gossip Il ballerino Stefano De Martino fa impazzire il suo social, dopo aver pubblicato la foto da solo unora, già 1230 persone hanno commentato. . Altre fan però hanno notato un dettaglio molto importante, chi ha avuto l'onore di scattare la foto e vedere dal vivo tutto ciò? Questa domanda può ricevere risposta solo dal diretto interessato. . . Noi possiamo solo godere del panorama offertoci. . 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